Ciao a tutti della TV Radio, oggi parliamo di baseball e delle sue regole. A baseball si gioca in due squadre, una in difesa e uno in attacco. Quale difesa ha il compito di evitare che il battitore a casa base non batta la pallina? Il lanciatore lancia il ricevitore in un ipotetico quadrato, composto dall'altezza delle spalle e fino al GW. Se la pallina è in treposto ipotetico quadrato giudicata, metta la nitrotica a casa base, dietro il ricevitore è strike. Se fuori è bull, dopo tre strike, il battitore è out. Dopo tre bull, il battitore ancora giugna la prima base. Se il battitore batte la pallina e questo cade in campo, può raggiungere prima, seconda o terza base, a seconda della distanza della pallina. Se va fuori il campo è round-bound e il battitore raggiunge la casa base, portando a casa tutti gli uomini in base. Ora da Codugno vi aspettiamo il 14 giugno 2020 per gli opening game tra Codugno e Piacenza, sperando che si giochi.